buon sabato 25 maggio ciao giovanni buongiorno buongiorno allora torniamo alla nostra fratelli tutti siamo circa credo alla metà della lettura dell'enciclica più o meno sì e quindi un lungo cammino ci aspetta ancora oggi qual è il titolo del paragrafo il titolo del paragrafo è diritti senza frontiere interessante sconfinamento un diritto universale non parcializzato dentro i confini di una singola nazione penso alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che ovviamente però poi deve essere caratterizzata anche da un insieme universale dei doveri dell'umanità nei confronti della natura e soprattutto nei confronti anche delle relazioni tra gli esseri umani quali non devono essere esposti al dominio alla guerra la potenza e la prepotenza della mondanità ma vediamo cosa ci dice papa francesco nessuno dunque può rimanere escluso a prescindere da dove sia a prescindere da dove sia nato e tantomeno a causa di privilegi che altri possiedono per essere nati in luoghi con maggiori opportunità ecco questo io ricordo una qualche anno fa lo emesse un po di anni fa e metteva in evidenza come il destino di due persone nate allo stesso giorno nello stesso anno in due terre diverse uno ha determinate opportunità l'altro l'altro ne ha diverse e quantitativamente superiori non l'ha scelto nessuno ha scelto di nascere da una parte piuttosto che un'altra ma alla nascita noi dobbiamo garantire un'uguaglianza nelle opportunità e laddove vi è uno squilibrio siamo chiamati a superarlo quello squilibrio rendendo possibile si portava appunto un esempio del destino di due esseri umani che nascono lo stesso giorno lo stesso anno quali sono le risorse che troveranno i fattori di rischio nei quali incorreranno per quale ragione la speranza di vita alla nascita in un paese è avanzata per altri è ancora troppo bassa ma anche all'interno di uno stesso paese chi nasce nelle condizioni di povertà una speranza di vita inferiore rispetto a chi nasce a chi riguarda solo il denaro o la lunghezza degli anni vissuti riguarda anche l'opportunità di essere in un percorso di liberazione attraverso la conoscenza c'è chi nasce in una casa nella quale c'è una grande disponibilità di cultura di libri chi nasce in una casa nella quale non c'è nessuna disponibilità di cultura di libri e in questo modo la scuola deve essere non meritocratica ma capace di riequilibrare l'ingiustizia sociale che nasce dalla diversa distribuzione delle risorse scuola non si faccia meritocratica ma maestra di giustizia sociale attraverso anche la dimensione educativa i confini e le frontiere degli stati non possono impedire che questo si realizzi così come è inaccettabile che una persona abbia meno diritti per il fatto di essere una donna è altrettanto inaccettabile che il luogo di nascita o di residenza già di per sé determini minore opportunità di vita degna e di sviluppo per quanto riguarda la donna purtroppo esiste ancora una ingiustizia sociale ed economica in base alla quale non si sa per quale motivo le donne sono pagate meno dei maschi questa è un'assurdità che non non comprenderò mai è inaccettabile lo sviluppo non deve essere orientato all'accumulazione crescente di pochi bensì deve assicurare i diritti umani personali e sociali economici politici inclusi diritti delle nazioni e dei popoli il diritto di alcuni alla libertà di impresa o di mercato non può stare al di sopra dei diritti dei poveri e della dignità dei poveri dei popoli e della dignità dei poveri e neppure al di sopra del rispetto dell'ambiente poiché chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti e se senti se fai questo discorso pubblicamente ti senti aggredito da tantissime persone che non vogliono saperne di vedere la ricchezza limitata in qualche modo sia per legge sia per qualche morale semplicemente cioè se lo dici mai fare un discorso pubblico e immagino che se la politica un partito un movimento presentasse un programma che tiene conto anzi si fonda su quello che sta scritto in questo passaggio della fratelli tutti rischia di non trovare consenso perché le precondizioni culturali sono orientate all'accumulazione per sé penso alla tassazione progressiva no molto spesso i liberisti gli anarcho liberisti promettono che ridurranno le tasse ai ricchi ovviamente perché quando dicono che riducono le tasse la flat tax non portano nessun vantaggio ai poveri perché loro hanno talmente poco che la tassazione è scarsa il problema che non troveranno più risorse in termini di servizi disponibili a proteggere tutelare la loro salute o a garantire una sicurezza educativa cioè la possibilità di accedere alla scolarizzazione perché non ci sono le risorse ecco che allora vedete qual è l'esca la trappola da parte dei liberisti anarcho liberisti quella di far credere a tutti che potenzialmente possono diventare ricchi ovviamente siccome questo riguarderà una percentuale piccolissima della popolazione finiscono per mortificare la gran parte della popolazione per non essere diventata ricca perché introducendo il criterio della meritocrazia uno non rivendica più la giustizia sociale ma se la prende con se stesso per non essere diventato ricco e non lotta affinché vi sia un'equa tassazione finalizzata al bene comune che è un bene per tutti anche per i ricchi perché una società più giusta una società più equa è una società autenticamente più sicura il liberismo e l'anarco liberismo porta inevitabilmente in sicurezza che viene gestita in termini di illusione garantita dal potere forte dall'accentramento del potere nelle mani di pochissimi fino a essere essere nelle mani di una sola persona ecco tutto questo non solo è il liberale ma è antitetico rispetto a una prospettiva di giustizia se tu hai sottolineato giustamente che nel dire pubblico questi argomenti non trovano consenso per motivi ridicoli secondo me la scusa che si usa per andare contro questi argomenti era ma allora poi non si impegna più nessuno perché non vieni premiato se fai tanti soldi ah giusto c'è anche questo aspetto della meritocrazia stimolante che questo implica ovviamente il fatto che quando la povertà è generata dall'ingiustizia stabilita anche per legge il povero si vergogna si autostigmatizza non diventa soggetto che invoca giustizia sociale anche attraverso la lotta pacifica o non violenta ma chiede un altro modello di sviluppo questo è possibile solo se investiamo in una cultura ecologica che è attenta a una più equa distribuzione delle risorse e nel porsi al servizio del pianeta e delle relazioni nella reciprocità hai fatto bene a sottolineare questo aspetto che nel discorso pubblico anche nel discorrere quotidiano è molto difficile argomentare in termini di giustizia sociale l'attività degli imprenditori effettivamente è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare migliorare il mondo per tutti Dio ci promuove si aspetta da noi che sviluppiamo le capacità che ci ha dato e ha riempito l'universo di potenzialità nei suoi disegni ogni persona è chiamata a promuovere il proprio sviluppo e questo comprende l'attuazione delle capacità economiche e tecnologiche per far crescere i beni e aumentare la ricchezza tuttavia in ogni caso queste capacità degli imprenditori che sono un dono di Dio dovrebbero essere orientate chiaramente al progresso delle altre persone e al superamento della miseria specialmente attraverso la creazione di opportunità di lavoro diversificate sempre insieme al diritto di proprietà privata c'è il prioritario e precedente diritto della subordinazione di ogni proprietà privata alla destinazione universale dei beni della terra e pertanto il diritto di tutti al loro uso anche qui c'è un passaggio straordinario che non si trova nell'agenda politica perché si teme di perdere il consenso questa subordinazione del diritto alla proprietà privata qui non viene negato il diritto alla proprietà privata ma lo si subordina al diritto universale che stabilisce la necessità di concorrere anche attraverso la proprietà privata che è il bene comune cosa ne pensi di questo Giovanni che è un nobilissimo pensiero giusto che vorrei fosse adottato da più persone ma questo discorso che ho fatto prima che ho iniziato prima non ne puoi parlare perché la gente tutti forse illusi dalla possibilità loro stessi di diventare ricchi un giorno e avere un guadagno estremamente altro non vogliono che i diritti degli straricchi vengano limitati o toccati perché hanno paura che poi non non ha senso che più soldi faccio più mi devo dedicare al popolo il popolo sarangi io mi sono fatto da me io ho fatto i soldi funziona così non è mai veramente così intanto secondo ti senti pure mi chiedo come fa veramente a un certo punto cosa te ne fai tutti quei soldi ma non è solo questioni di quello è proprio perché non è concepibile dagli stessi poveri che nel momento in cui uno ha più di quanto non gli serva debba dare agli altri ma che tra l'altro la maggioranza della popolazione è a reddito penso anche ai paesi ricchi medio medio basso fino all'assenza di reddito la stragrande maggioranza penso agli anziani alle pensioni che non ti permettono di accedere neppure alle case di riposo se hai necessità e sei solo non trovi neanche la possibilità di trovare un aiuto che devi ovviamente pagare nonostante questo l'illusione costruita intorno a immagini incarnate da soggetti i quali fanno scuola di ricchezza c'è una sorta di idolatria un politeismo che è incarnato dagli straricchi in tempi rapidissimi tra l'altro diventano straricchi in tempi velocissimi questi sono guardati come emblema di successo e li si guarda come un orientamento per la propria esistenza il grande inganno che ovviamente deriva anche dalla presenza dei social che esasperano queste immagini tanto molti di questi sono padroni dei social va bene abbiamo finito sì possiamo anche fermarci qui che è un discorso molto complesso politicamente rilevante ma soprattutto culturalmente orientante verso una rivisitazione radicale del nostro modo di pensare di vivere una necessità di convertire i nostri stili di vita buon sabato a tutte e a tutte buon sabato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti